Gli agenti di Polizia di Stato hanno arrestato un ventenne trovati in possesso di un quantitativo di anfetamine del peso pari a 25 grammi. A riportare la Polizia di Stato di Arezzo, nella serata di venerdì intorno alle 22, gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato lungoviale Don Minzonio, una Fiat Punto, con a bordo tre soggetti, un ragazzo di 20 anni, uno di 21 e un altro ventenne. Quest'ultimo, nello scendere dall'auto, aveva gettato a terra un involucro di plastica subito recuperato dagli agenti. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire addosso ai primi due una modica quantità di cannabinoidi ed anfetamine per uso personale, mentre l'involucro di cui si era disfatti il ventenne risultava contenere un quantitativo di anfetamine del peso pari a 25 grammi. A seguito degli opportuni approfondimenti, i due possessori delle modiche quantità sono stati segnalati alla Prefettura per le sanzioni previste dalla normativa in materia di stupefacenti, mentre il terzo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope e trattenuta a disposizione dell'autorità giudiziaria per il giudizio di convalida che avverrà nei prossimi giorni.